Conta la rovescia per la giornata mondiale della gioventù, come procede la macchina organizzativa della diocese di Arezzo Cortone Sansepolcro? Ormai, dato che mancano pochissimi giorni alla partenza, tutto è abbastanza organizzato. I contatti con il Brasile ormai sono quasi giornalieri, proprio per dare informazioni, riceverle, soprattutto per capire anche quanto ci stanno aspettando. Abbiamo fatto l'incontro con i ragazzi, abbiamo cercato di spiegare un po' tutto quello che era possibile. Partiranno circa 21 ragazzi con un programma legato alla diocese di San Paolo e alla diocese di Rio de Janeiro e poi partiranno 25 ragazzi che fanno parte delle comunità neocotucumenali e si appoggeranno a quello che è il programma delle comunità toscane. La cosa che il Brasile ci ha comunicato è che l'accoglienza sarà bellissima e soprattutto sarà in ogni occasione, per cui ci aspettiamo le porte delle famiglie brasiliane aperte e le istituzioni che sono molto disponibili a farci anche lavorare sul campo, a mettere quello che abbiamo, quello che siamo. Perché hai deciso di partecipare alla GMG di Rio de Janeiro? Perché è una cosa stupenda. Penso che a questa età, a 18 anni, fare un'esperienza del genere non abbia paragoni. L'anno scorso sono stato in quella di Madrid e lì mi è cambiato tutto, mi è cambiato una volta tornata a casa. So che fare un'altra giornata mondiale della gioventù, specialmente in Brasile, mi farà tornare a casa migliore, sempre con qualcosa in più. Io ho partecipato anche alla scorsa giornata mondiale della gioventù a Madrid e ho sentito l'esigenza di partecipare a questa giornata mondiale della gioventù a Rio, anche se le distanze sono maggiori e anche le preoccupazioni perché io ho la fobia dell'aereo.